Napoli e Intract, via libera alla trasferta per la decisione del TAR cambia tutto. Svolta per la gara Napoli e Intract, ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma mercoledì prossimo allo Stadio Maradona. Il TAR, infatti, ha accolto l'istanza del club tedesco su divieto di trasferta per i tifosi e dunque il Napoli ora potrà vendere i biglietti ai tifosi residenti in Germania. Era questa la notizia che a Francoforte ed intorni tutti aspettavano. Tante polemiche erano sorte dopo la decisione del ministro dell'interno di impedire ai tifosi tedeschi di essere a Napoli dopo gli incidenti dell'Andate. Soprattutto, quanto accaduto anni fa a Roma. Ma adesso c'è un nuovo capitolo. La svolta Champions, i tifosi dell'Intract saranno al Maradona. Il TAR raccoglie l'istanza cautelare e quindi i tifosi potranno essere al Maradona mercoledì sera. Tra le motivazioni, la decisione è non proporzionata, già che finisce per sposare l'opzione zero. Senza considerare la possibilità di contenere il paventato rischio con misure alternative e meno invasive. Inoltre si trattava di una decisione che impone il divieto, generalizzato, a tutti i cittadini tedeschi, più di 80 milioni di persone. Senza ipotizzare neppure la possibilità di concentrare l'inibitoria su più immediate e identificate fonti di pericolo. Virgola